Per me, anzi, buonasera signor Marx e grazie, grazie davvero per aver accettato questa intervista, insomma. Confesso al nostro pubblico che è stato un po' faticoso, ecco, e a un certo punto sembrava proprio una mission impossible, come si dice oggi. Beh, comunque come mi ha chiesto lei, dottor Marx, io ho predisposto una decina di domande che, se è d'accordo, comincerei a sottoporre alla sua attenzione. Beh, preferirei però iniziare con una sua battuta, per cortesia. Se crede, volentieri. Le dirò, la mia battuta preferita resta ancora «Je ne suis pas marxiste». Mi ci sono proprio affezionato perché, vede, in fondo, negli ultimi due anni io ho cominciato a ricevere una richiesta quotidiana di interviste. Mi sono dovuto documentare e ho scoperto che il mio faccione è tornato in giro per il mondo. Uno spettro si aggira per il mondo e a nome Marx. Vuol dire grocio, Marx? Eh, magari, non è il caso, signora. Piuttosto sulla faccenda degli spettri dovremmo tornarci. Vede, io ho studiato a fondo alla scritta che lei cortesemente mi ha mandato. Il punto è che da un bel po' di decenni non mi capitava qualcosa del genere. Io le avevo chiesto solo una battuta a Er Marx e lei è già entrato con passione eloquente nella scaletta delle mie domande, scompaginandole un po', devo dire. Ma la perdono e andiamo con ordine, però. Dunque, io le farei una domanda a secca. Qual è la massima fra le tante che raccomanderebbe ancora oggi nell'avvio ingarbugliato di questo ventunesimo secolo? Non ho mai inteso questa massima che reputo superba in senso morale e tantomeno moralistico. L'ho sempre considerata come un invito, perentorio, peraltro, al realismo, all'analisi concreta della situazione storico-sociale determinata e concreta. E così, continuo a pensarlo, dovrebbe essere considerata da qualsiasi essere umano, chiunque sia, perché il possibile irrompa nel presente, in virtù proprio delle sue contraddizioni. Questo, devo riconoscerlo, me l'ha insegnato a Sacchi? Il maestro Hegel. Aveva solo sbagliato l'incipit della sua narrazione, lui. Aveva esordito con un prologo di cielo. E lei lo ha accettato. No, lo rimesso, mi chiedi per terra. Il terreno per...